Secondo la città metropolitana di Reggio Calabria, la realizzazione di un nuovo bypass nel tratto ionico della strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno è un'ipotesi progettuale capace di conciliare la transitabilità in tempi brevi, con un investimento che risulta essere il più economico, anche rispetto agli stanziamenti necessari ad ammodernare le strade provinciali vicine. Presenti all'incontro sindaci e rappresentanti del territorio, è stato approvato all'unanimità un documento con la proposta alternativa per il bypass della galleria. La strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno non può chiudere se non prima saranno chiari, definiti e fattibili percorsi alternativi che evitino ogni disagio alla popolazione. E' quanto stabilito dal Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, convocato in via straordinaria a gioiosa Ionica, in forma aperta alla partecipazione di sindaci, cittadini, associazioni, sindacati e altre forze sociali, preoccupati per la paventata chiusura della galleria di Vali Colimina per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino previsti da ANAS. Il Consiglio metropolitano è stato aperto e coordinato dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, che ha chiarito la volontà dell'ente di tutelare al massimo le istanze del territorio, pretendendo chiarezza sul progetto di ANAS. La chiusura di questa strada, ha detto Versace, rischia di essere un colpo mortale per la mobilità territoriale, con importantissime ricadute negative sulla già debole economia del territorio, ma non solo, anche per tutti gli altri settori dal turismo, sanità professionale. E' stato un momento di grande partecipazione, grazie al quale abbiamo raccolto le preoccupazioni da parte dei sindaci e diversi spunti propositivi. Come istituzioni del territorio ha concluso, abbiamo la necessità di avere risposte formali da ANAS, MIT e Regione Calabria. L'ente metropolitano, con il dirigente del settore viabilità, ha illustrato le proposte tecniche inviate al MIT, ANAS e Regione Calabria, che riguardano il rafforzamento e messa in sicurezza della strada provinciale 1, l'Ocri Gioia Tauro, la strada provinciale 5, Mammola, Passo del Mercante, la strada provinciale 8, Gioiosa Grotteria, e la realizzazione del bypass che aggiri la galleria. Si tratta, come esposto dai tecnici, di un'opera che vuole essere strutturale e non provvisoria. Per realizzarla, secondo studi condotti, servirebbero circa 7 milioni di euro.